Quindi vi vedete più ai live che alle prove forse? No, ci vediamo ovviamente quasi sia live che prove allo stesso numero di volte. Sì, anche nella vita, puoi, puoi. Ma sai, fare le prove quando hai già dei strumentisti che hanno chiaro la tua idea di come fare musica, le prove vengono molto semplici, cioè è come fare un concerto alla fine. Perché questo? Io Giordi come curriculum lo conosco, a chi non lo conosce, io dillo te anche, che insomma sei un batterista ormai affermato, lui è un timido, lavori principalmente in studio, comunque anche percussionista e batterista della Placenza Gospel Choir, della nazionale Italian Gospel Choir, di cui io faccio parte. Tu sei cantante! Io sono un corista del Placenza Gospel Choir e dell'Italian Gospel Choir. Abbiamo fatto dei concerti molto importanti e quindi nel mio curriculum al momento c'è questa prerogativa abbastanza buona. Anche qui il signor Choir è un corista nonché tasterista, pianista, arrangiatore, lui fa tutto. Ma gli fa fare tutto. Nentre con il Gospel non c'entra nulla a Davide Bergamaschi, ma il signore ha tante strade finite.